... spettacolare, certamente acrobatico, poi bravo per un baller da tenerlo lì, e la figlia Dezzi è andata a calciare. Chiedeva il calcio di rigore a Velotti, che si la metta con il dottor di Rai. E da quello che abbiamo visto da Porto Campo, poteva starci, sempre per lo stesso discorso, se non si fosse trattato di un amichevole, abbiamo l'impressione che il direttore di gara avrebbe assegnato il FN ante l'Italia. No, rendere play Luca no, non essere play assolutamente eroscivo alla C, si appoggia leggermente il cuore, rendere play però sarebbe stato sedero, diciamo così. ... al tempo, gira per parte. ... contro il pallone lungo non c'è più tempo però, e non c'è recupero, fischia!